Siamo con Elena Loventhal, vicitrice del Premio Stresa edizione 2019. Lei ha parlato delle radici aeree che caratterizzano un po' i personaggi di questo romanzo. Cosa significa per lei? Significa che questi miei personaggi ad un certo punto della loro vita devono partire, lasciare il luogo in cui sono nati e in cui vivono da centinaia di anni e lo fanno con disinvoltura, non senza dolore, ma con la capacità di portarsi dietro le radici che sono quelle che danno vita e sostanza di vita e se le portano in giro per il mondo viaggiando da un capo all'altro dei continenti. È un talento che io non ho e ho voluto dare ai miei personaggi. Grazie a tutti.